Gloria a Dio! Vi rifaccio il video con le fughe e silicone, completo. Adesso è completo. Come vedete, si vede un pennello. Adesso è completo tutto. Alla prossima. Grazie. Grazie. In livegam, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, in tutto il mondo. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia.